E buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti in questa giornata di cui non ci si può certo gasare. Per quale motivo? Perché abbiamo stampato un lower low sul giornaliero sul breve e la candela di oggi è una delle cose più brutte che si possa mai chiedere. E quindi come mai c'è questo sorriso sulla faccia mi chiederete cioè non ce n'è alcuna ragione ma in realtà perché io rimango bullish a prescindere sul lungo periodo sono sempre bullish e sempre gasato finché non si perde vi ricordo questo benedetto low. Ci siamo vicini è vero e la situazione sembra tutto forcherosea però la partita è ancora aperta non facciamoci la test in anticipo l'importante che si vada su o che si vada giù e avere una strategia perché anche se dovessimo andare incontro ad un bear market sarebbe un bel test per molti secondo me soprattutto perché molte persone sono arrivate recentemente credo. Quindi magari hanno comprato abbastanza in alto magari stanno imparando adesso per le prime volte cosa vuol dire andare incontro a una situazione che può essere di ribasso duraturo e non il solito dip che poi la settimana dopo è già assorbito. Questo è un test che fa maturare molto il mercato e chi c'è dentro non va visto anche se accadesse ripeto io per ora rimango ancora bullish quindi non voglio parlare di bear market già iniziato perché per me non è ancora iniziato. Andiamo a vedere tra poco quando è che possiamo dire che è iniziato e cosa ce lo potrebbe far capire ma anche se dovesse iniziare e dovesse anche andare avanti per un po abbiamo la possibilità di farmare abbiamo una visione più chiara mi auguro di dove sta il valore. E io ieri ho scritto un tweet in maniera molto provocatoria dicendo che a me piacerebbe io ho ben chiari quei token e quelle coin sulle quali allocherei capitale ma l'unica ragione per cui non mi espongo più di tanto e vado avanti timidamente con il mio pack e basta. E' una il fatto che sono tutte estremamente estese ci troviamo in una zona molto alta di un bull market estremamente potente soprattutto per le alt e questo a me è un po' lontana perché non mi viene voglia di riempirmi le tasche di altcoin in una situazione come questa. Non so a voi non so a voi cosa ne pensate ma se al contrario dovessimo andare incontro ad una fase ribassista che riporta i prezzi in basso e magari addirittura più in basso del dovuto cioè un bear market molto forte. Beh io lì penso che mi riempirei sì le tasche penso che venderei anche l'anima al diavolo e quindi è per questo che mi viene da sorridere cioè sarebbe vedetela così anche se succede un bear market tutti non vogliamo che succeda no vogliamo solo che salga ma anche se dovesse succedere un bear market rifletteteci è un'opportunità è una seconda occasione per chi magari è arrivato tardi e dice oh caspita è troppo è tutto troppo alto niente ho perso il treno che è una cosa sbagliata è da fare però da un punto di vista insomma acquistare troppo in alto è sempre errato e quindi un bear market può dare delle opportunità per studiare di più per approfondire di più e per andare a pescare dei prezzi medi di carico chiaramente più bassi. Quindi questo era un po' l'incipit che volevo dare al video di oggi poi ripeto di bear market non si può ancora parlare perché è ancora presto in quanto la nostra struttura settimanale adesso questa settimana tra pochi giorni scusate chiuderemo la candela anche di questa settimana ma la struttura settimanale è ancora di equilibrio abbiamo un forte una forte leg up l'ultima e adesso abbiamo una forte leg down. grazie al fatto che anche la leg up era molto forte questo ribasso per quanto pam bello impulsivo una bella sassata in testa abbiamo preso non è sufficiente per fargli perdere la direzionalità o meglio non abbiamo più ovviamente la direzionalità rialzista che avevamo prima di fare delle ondate del genere però non abbiamo neanche il downtrend per quale motivo perché non abbiamo perso il low è sempre lì il discorso. abbiamo perso il primo supporto questo in zona 52.500 e c'è stato proprio oggi tra l'altro se non erro vediamo se è così no non oggi qualche giorno fa oggi ci abbiamo riprovato ma l'offerta insomma ha dato una bella testata così al tentativo di recupero abbiamo fatto anche un retest. vedete questo livello che è un livello importante in quanto si genera sui 52.000 vecchio top settimanale e 53.000 il top della shadow quindi la zona inclusa tra la chiusura della candela il top della shadow per me io li chiamo pool no? perché di solito ci si annida dentro liquidità in domanda in offerta ma spesso accade a seconda poi del lato in cui lo andiamo ad approcciare e questo pool vedete è stato ha usato è stato usato scusate come supporto qua in questa candela settimanale per tac e assorbire quindi la domanda si è palesata e assorbito. la settimana dopo però l'abbiamo bucato clamorosamente con un impatto tra l'altro fortissimo questa candela settimanale è stata violentissima la domanda ha di nuovo reagito ma ha reagito più giù in questo momento ha reagito nel supportone che si trova esattamente sotto al low questo è il supportone che deve tenere no? pena la rottura della struttura il nostro supportone qua sotto ha riassorbito una parte del dump ma non sufficiente per riportarci sopra a questo livello ci abbiamo riprovato la settimana seguendo ovvero questa a ritornare sopra questo livello ma con insuccesso cos'è accaduto? è accaduto che abbiamo fatto un retest da manuale vi ricordate tra l'altro le nostre analisi delle volte scorse no? che abbiamo detto le prime candele verdi che vedremo perché le vedremo siamo molto estesi a ribasso adesso è una situazione in cui adesso se guardate il settimanale abbiamo quattro candele rosse una dopo l'altra sul settimanale la prossima c'è più probabilità che sia verde rispetto che sia rossa ma vorrete mica commettere l'errore di dire bottom is in adesso perché è un errore che potrebbe costare caro e lo stesso valeva sul time frame giornaliero in questo momento vedete abbiamo avuto l'assorbimento quello famoso che abbiamo visto poco fa dal bottom locale a 41 42 mila assorbimento follow up di candele verdi pam 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 tre a fila piccolina e niente di particolare la terza ha toccato un nervo un po' scoperto dell'offerta l'ha fatto un po' incazzare ha detto aspetta un attimo dampone e via dampone e via no perché comunque non è che abbiamo fatto un dump pazzesco però all'offerta ha detto ascolta qua facciamo vedere chi comanda stai nel tuo e ti ributto giù pam 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 vedete questo è un po' ciò che è accaduto e questo conferma la struttura in corso una struttura dominata ancora dall'offerta sul breve offerta che non lascia recuperare neanche un livello finché siamo in una struttura del genere è inutile cercare di anticipare no dire bottom is in bottom is in non ancora bottom is in lo potremmo dire quando faremo un costrutto di bottom un po' fatto bene esempio adesso se andiamo a fare una cosa di questo tipo una w range e poi lo rompiamo a rialzo questo potrebbe diventare un costrutto di bottom con tanto di higher low confermato e allora lì si potrebbe ragionare su una posizione long ma una posizione long speculativa che mira ad anticipare adesso un bottom è estremamente rischiosa una posizione che può avere senso a una posizione più ampia dove partendo quella solita che avevamo ipotizzato che poi può essere sbagliata anche quella però ha un senso logico che era quella di accumulazione partendo da qua fino alla nostra zona di ultimo supporto con invalidazione sotto al 40.000 quindi in caso di lower low in quel caso lì tutti i possibili scenari bullish e long ahimè sono invalidati e perduti e io diventerei bearish fino a prova contraria sul medio periodo in realtà sarebbe teoricamente ancora presto per diventare effettivamente bearish perché dovremmo andare a vedere dove andiamo a trovare lie o meglio immaginatevi di fare una cosa del genere facciamo un lower low confermato c'è per forza un rimbalzo perché il mercato è ciclico e comunque rimbalza va su va giù va su va giù sono i massimi e i minimi quelli che importano ma secondo voi dopo un lower low del genere e un impulso ribassista del genere che sarebbe un meno 50 per cento buono è tutto sommato che probabilità c'è di andare a riprendere il top o a fare un higher high molto più bassa di quella di fare un lower high e quindi è per quello che il mio bias si sposterebbe leggermente in molti mi hanno chiesto ma tu come ti comporteresti allora lato operativo io ho un portafoglio strutturato apposta per sopravvivere diciamo anche in queste situazioni io vi ricordo che il mio portafoglio è composto al 50 per cento da stable coin non a caso ok ed è in situazioni come queste che quel 50 per cento inizia ad ammortizzare i danni ammortizzare i danni perché poi loro sono a rendita adesso fortunatamente abbiamo la defy abbiamo la cefi abbiamo tanti metodi no di mettere a rendita le stable coin e tutto ciò ci aiuta tantissimo nelle fasi di lateralità oppure anche ribasso perché se uno ha un bel cuscinetto di stable coin le mette a rendita comunque quella rendita c'è e vi dirò di più quella stessa rendita si può utilizzare nelle fasi bearish per andare ad accumulare qualche coin o qualche token sottoprezzati qui si parla chiaramente di bear market più avanzato adesso non ci siamo ancora dentro io sto andando avanti con la fantasia però abbiamo degli strumenti potentissimi a nostra disposizione per combatterlo il bear market ovvio se comunque la nostra visione fondamentale a lungo termine sulle cripto è positiva perché se non ci crediamo neanche noi non so cosa siamo qua a fare ok non non ha senso in in partenza ma se io sono bullish sul lungo termine caspita bear market uguale opportunità di vedere prezzi inferiori un'altra cosa che farei se andiamo a perdere questo livello di supporto quindi andiamo a invalidare la struttura io aspetterei il rimbalzo e cercherei di andare a potenziare un attimino lo short di copertura dal 5 al 10 per cento proprio durante la fase di rimbalzo ecco non lo andrei a fare al bottom chiaramente perché non avrebbe senso aspetterei il rimbalzo se il rimbalzo non c'è ho misso l'entrata pace amen terrò il 5 per cento non è sicuramente la mia priorità numero uno è soltanto una manovra difensiva ok io ho le mie stable coin che rendono un piano molto ben definito so già che token andare a cercare nel caso in cui andiamo a ribasso ecco un'altra cosa importante per parlando di potenziale bear market adesso spero di non passare per gufo ok io sto cercando di essere concreto e di darvi una panoramica di quello che può essere uno scenario sensato vi ripeto ancora un'altra volta per per par condicio non siamo ancora bearish anzi siamo ancora in regime di higher lows e fin tanto che questo permane siamo tutti bullish ma nel caso in cui il mercato inizia a incrinarsi un'altra cosa che accade è che non so come dirlo ma i partecipanti al mercato noi compresi dovremmo farlo anche noi abbassano la propensione al rischio cosa significa questo significa che il gambling diventa sempre meno efficace il gambling è efficace in bull market non so se avete notato un po come le shit coin che salgono in bull market poi in bear market vanno sottoterra e scompaiono per sempre ma anche il gambling un po più assennato come wonderland rom olympus dao i fork le defy ad alto rischio i token magari a media bassa capitalizzazione con dei fondamentali ecco quello per attività lì un po più rischi di solito le persone fanno un passo indietro e quindi inizia a rendere molto poco e inizia il rapporto rischio rendimento a diventare più sfavorevole quindi una cosa che io personalmente farò e continuerò a farlo con l'incrementare del bear market quando avremo dei segni ripeto un po più concreti e tangibili è estromettere dismettere del tutto la componente gambling del mio portafoglio che al momento è 0,05 0,06 un po di più perché in realtà ha reso abbastanza ma è meno dell'1% comunque per farvi capire l'entità e quella componente gambling insieme magari a un altro 1% se mi gira ma comunque mantenendola molto molto compatta la dedicherei proprio ad accumulare alcuni token che non andrei a includere nel mio portafoglio grosso quindi nel long term più assoluto nei miei pack e quant'altro ma quei token nei quali vedo un valore fondamentale ma comunque una componente speculativa discretamente importante quei token che adesso non toccherei mai perché iper estesi ma che se andiamo in bear market come si deve li ripeto li andrei anche ad accumulare credo che farò un video dedicato a questa cosa quindi anzi vorrei farne due ditemi cosa ne pensate uno sulla mia strategia per affrontare un bear market che vi ho un po anticipato adesso ma andando un po più nel dettaglio con qualche slide magari non lo so qualcosa di più concreto e due questo è un po più clickbait un po più teaser ma anche interessante secondo me quei 5 o 6 token non lo so devo vedere cosa suona meglio 5 token che acquisterei in caso di bear market che accumulerei in caso di bear market quindi quelli che fanno parte di quella categoria ultima che vi ho detto adesso che andrebbe a sostituire l'operatività di gambling questa è un po la mia visione riguardo al potenziale no bear market che potrebbe arrivare e ciò che potrebbe andare a cambiare nel mercato quindi l'alto rischio diventa meno profittevole e a mio parere da evitare mentre diventa sempre più interessante il medio basso rischio quindi i nostri anchor protocol i nostri staking liquid staking insomma di roba ce n'è su cui comunque continuare a cercare una rendita puntando ad accumulare cosa che farò anche con il mio ribilanciamento che è una cosa che va avanti 24 7 tutto l'anno andare ad accumulare ancora di più visto che il calo del prezzo potrebbe andare in quella direzione lì i nostri asset sui quali crediamo a lungo termine quindi i miei luna bnb sol ftt tutti quelli che ho in portafoglio in maniera molto trasparente classica con quel pizzico di pepe di quei token in più vabbè ne parleremo in un video dedicato perché altrimenti adesso parlo solo io oggi parlo solo io adesso vi volevo si farma solo su anchor e buon natale esatto 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 vediamo vediamo no si farma sicuramente la parte stable coin è importante nella struttura nell'architettura proprio del portafoglio cioè a prescindere dalla fase di mercato se uno in cui pensate uno in questo momento esposto esclusivamente su alt poco capitalizzate ad alto rischio dovrebbe veramente non so come farebbe a dormire la notte cioè lo puoi fare se hai un capitale basso con cui scommetti e giochi un po ma se inizi ad avere un capitale alto non puoi pensare di investirlo buttandolo in altcoin a caso cercando il prossimo 100 per perché lo trovi nelle fasi di euforia ma poi quando cambia la musica fidati che non balla più nessuno e ti trovi dei bei damponi giorno dopo giorno quindi bisogna strutturare il portafoglio in modo che sia che possa sopravvivere alle più condizioni possibile comunque adesso io avevo un po di cose da dirvi in realtà come potete vedere qua sopra non so se visto che ho già parlato 20 minuti non so se le dirò tutto oppure no perché volevo anche fare due chiacchiere con voi quindi un po di un po di domande risposte luca ma come usciresti dal gambling tipo wonderland prendi tutto e via fondamentalmente sì è quello il discorso cioè io io me ne vo io me ne vo perché voglio voglio ridurre il rischio voglio ridurre il rischio è l'unico contro sapete qual è che con wonderland rom e cose del genere paga il tempo è lì purtroppo la fregatura è quella quindi se uno magari è entrato poco fa e si è preso il damp di time e adesso esce realizza una perdita lì bisogna ragionare no bisogna ragionare con gli obiettivi che si aveva quanto ci sia messo quanto ha reso non reso io sinceramente credo che se il rischio inizia a diventare sfavorevole rispetto al rendimento punterei a uscire magari si può uscire gradualmente ma in un bear market serio secondo me cioè il damp sarebbe molto più elevato di quello che abbiamo visto adesso di time e compagnia bella quindi questo questa è l'idea l'idea alla base di tutto no sono cose che funzionano molto bene in tempo di euforia ma in momento di paura di dove la gente vuole andare ad abbassare il suo livello di rischio iniziano a funzionare peggio poi conviene fare un pack su quattro coin con 50 euro al mese ma nel senso sì perché no 50 euro per coin intendi o 50 euro in totale perché altrimenti magari se sono in totale fallo solo su bitcoin non lo so vedi il raggio cercane una no magari non lasci coin di turno però vediamo vediamo se affonda la nave affonderò con essa e però attenzione perché ma il prezzo di time può andare sotto il suo backing price teoricamente no teoricamente no però se la speculazione inizia ma immagino che lo arbitraggerebbero più in su dunque 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 no abbandoni già wonderland ma guarda in realtà l'ho cavalcato basta quando su siamo due mesi più o meno il problema è che è proprio per quello cioè il fatto che in due mesi comunque ha reso bene una parte l'ho già estromessa e l'ho ho realizzato un meno 50 per cento netto sul prezzo ero entrato al doppio però con i compounding vari più o meno insomma impario in leggera perdita poca roba comunque devo devo vedere i miei nuovi calcoli però sapete il discorso è che se è un momento di di paura cioè il rischio va va ridotto non ci sono non si può dire boh speria io rimango qui spero che risalga no cioè non funziona così allora andiamo partiamo con le chicche di oggi numero uno su ftx c'è una bellissima promo bellissima sono 25 dollari però schifo non fanno se si non si ha un account si crea un account su ftx e si deposita almeno un avax lo so cosa state pensando e ma un avax costa 80 dollari quello che è e me ne danno 25 non ne vale la pena è vero cioè nel senso se dovete comprare apposta avax per metterlo lì che poi magari dumpa non ha senso ma se magari lo holdate e ce l'avete su un wallet o da qualche altra parte ne prendete uno lo trasferite su ftx vi cucate i 25 dollari e basta ftx tra l'altro ha integrato l'avalanche seachain e quindi questo era un po per festeggiare questa integrazione e quindi ecco i primi i primi utenti che lo fanno è perché ci sono 640 mila dollari e quindi 640 mila diviso 25 adesso faccio anche il calcolo i primi 25 mila 600 utenti riceveranno il bonus di 25 dollari in avax i primi che depositano sono i primi fatti contenti e a questo punto prendo l'assist al volo e vi do la turbo scillata del referral link di ftx che scherzi a parte anche al di là della come si chiama della promo di avalanche è un exchange con lei maiuscola non so giusto così per e dunque papam 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 eccoci poi sempre riguardo ftx visto che lo stiamo oscillando oscilliamolo come si deve dove era dove era qua ecco ledger live ha fatto una partnership con ftx hanno unito le forze con l'obiettivo questa è una figata pazzesca secondo me di portare tutto ciò che c'è su ftx in ledger live cioè praticamente noi ci abbiamo il nostro la nostra chiavetta come la chiamano i boomer come la chiama mio papà mia mamma dice la chiavetta cosa tenesse si rompe per di bitcoin noi abbiamo la nostra chiavetta e con la chiavetta e ledger live possiamo anche usare la leva speculare fare tutte le operazioni che si possono fare su ftx ledger live tra l'altro un'app top come hardware wallet ultimamente come essere user friendly come ledger non ce n'è si potrebbe insomma dibattere sul fatto che forse lato sicurezza c'è di meglio ma comunque è già un buono standard e soprattutto integrazioni a gogo ad esempio con metamask parlavamo nel corso di defy di vi suggerivo di utilizzare metamask esclusivamente attaccato al ledger per motivi di sicurezza e vi sfido a farlo con altri wallet magari più sicuri ecco e poi sempre riguardo a ledger c'è è stata annunciata stavolta non c'entra ftx però c'entra ledger quindi facciamo un po la catena di scillate e è stata annunciata la carta anche questa è una figata cioè ledger sta facendo cose folli è stata annunciata una carta di debito erogata proprio da legger in partnership con banks che è un'azienda di fintech uk con sede a londra e sostanzialmente questa carta cioè noi in sostanza creeremo un account su banks aderendo a questa cosa banks offre servizi tra cui questa carta che si chiama cl crypto life si chiama e con questa carta noi potremmo spendere direttamente dal ledger quindi la linkiamo no al al nostro al nostro ledger al nostro wallet e andiamo a spendere le cripto direttamente da lì quindi potremmo fare il top up quindi come non lo so un'operazione di sposto i bitcoin me li converti in euro e poi li carico sulla carta oppure la vendita istantanea insomma paghiamo mi fa la conversione e pago in euro ovviamente non è non è che pago in crypto inoltre c'è un'altra cosa get access to liquidity using your crypto as collateral ovvero poter utilizzare le cripto come collaterale cosa non nuova ma i tassi a partire dallo zero per cento questo voglio vedere come dove quando e perché perché non credo finché non vedo ma in sostanza potremmo avere liquidità in prestito collateralizzando le cripto non male e poi ricevere i lo stipendio parzialmente in cripto si non è una feature da fare wow perché possiamo farlo anche da soli però carina come idea sono molto bullish su tutto ciò è molto molto interessante e bene poi cipino di microstrategy 82.4 milioni che tra l'altro molto male è perché ha comprato a 57.477 dollari così a caso completamente non so non so perché non so in base a cosa sceglie noi prezzi però ha comprato qui qui in sostanza 54 e qualcosa questo è l'entry di michael sailor ma vabbè scherzi a parte il suo prezzo medio di carico ancora 30k i famigerati 30k no che sono insomma la base di tutta quest'area tac questo è il prezzo medio di carico di michael sailor quindi vediamo dovrebbe essere tra l'altro anche con l'analisi on chain che avevamo fatto era immerso che era un supportone non da poco non da poco e vediamo vediamo se ci arriveremo spero di no soprattutto spero che non lo perdiamo perché credo che non ci sia scenario peggiore di immaginare tutto questo come costrutto di top e quindi di andare a perdere tutto ciò non voglio neanche guardarlo perché stanotte non dormo altrimenti e bene quindi il suo cipino l'ha messo poi cos'altro abbiamo ecco wonderland e rome vi volevo solo far vedere che vabbè il prezzo un po calato anche su rom siamo sui 450 dollari e insomma ha avuto stan soffrendo la il passo soffrono il panico queste cose qui ecco tutto se volete riassumere tutta la pappardella che ho fatto prima in poche parole è le piattaforme ad alto rischio la defaia ad alto rischio soffre il panico e sappiate che continua a soffrirlo tendenzialmente quindi calcolate bene perché ci siamo abituati di un bene che la metà basta già i py 80 mila per cento col prezzo stabile cioè no non esiste no prima o poi finisce tutto ciò non che va a zero è però è fatto per dampare questo token ricordatevelo e dampa di solito in concomitanza col panico con quando si inizia a tastare il panico mentre parlando di cose più sostenibili adesso non mi va sicuro tanto bevo un po d'acqua ghiacciata allora parlando di cose sostenibili qui abbiamo il liquid staking di luna tanta roba per gli holder di luna allora abbiamo luna x da stader labs vi ricordate stader labs i suoi staking pool dove tu vai a mettere i tuoi luna qua e lui te lo distribuisce tra i vari validatori eccetera 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 e basta fa staking per te in sostanza ti prendi l'eardrop ti prendi tutto e decentralizza sceglie lui i validatori e così via adesso c'è anche il liquid staking dove in sostanza si può andare a depositare i luna qua in sotto stake e vanno in staking dei loro pool chiaramente e in cambio ottengo i luna x luna x è il liquid derivative dello staking di luna quindi io ho questo tasso di cambio che al momento è circa 1 a 1 con un 0.2 per cento di differenza ma i luna x aumentano di valore perché vanno a incorporare le ipy dello staking di luna quindi a partire dal lancio loro continuano a salire salire di prezzo al momento ci sono mezzo milione di luna qua dentro al liquid staking pool con questo ipy che è l'apy dello staking e comprende anche gli airdrop e tutto e non è che vi esclude non succede niente e cosa cos'altro si può fare allora i luna x una volta che li si ha li si può mettere nel pool di terra swap se io vado a fare add liquidity mi re indirizza su terra swap e io qua posso mettere liquidità sul pool luna luna x eccolo tac vedete uno qua qua un po diverso il tasso di cambio e addirittura luna x vale meno di luna che strano che storia strano che strono e boh stranissima sta cosa comunque si va a dare liquidità luna luna x e si riceve la il community farming quindi cosa accade luna luna x 10 e 7 di apy per lo staking puro passo 2 liquidità in terra swap cosa ottengo 10 e 7 al 50 per cento attenzione perché a metà sono esposto in luna e metà in luna x però più il community farming e il le ricompense del pool di liquidità quindi dei trade non l'ho ancora trovato sulla dashboard a quanto ammontano alla dashboard di terra swap perché questo pool non l'ho ancora visto non l'ho ancora visto qui c'è luna luna biluna e basta e che al 26 non lo so sinceramente a quanto può ammontare non so quanti scambi ci possono essere però vabbè ci vorrebbero un po di dati mi aspetto un valore simile a questo no occhio e croce e oltre al alle commissioni quindi di trading avrei anche il token sd del community farming community farming che a che punto è a che punto è a 75 mila su un milione e mezzo quindi ce n'è ancora ce n'è ancora e basta basta questo è quanto da qui si può anche fare il claim degli airdrop vabbè con lo staking su su stader labs e questo al momento secondo me è uno dei modi migliori per mettere a rendita luna qualcuno oggi dopo che ho postato ciò mi ha detto ma guarda che tra l'altro su terra swap adesso si è perso proprio sulla coppia luna biluna andiamo a vedere vedete il prezzo ecco si è perso il peg diciamo con 1 e quando diverge da 1 questa coppia luna biluna si creano delle opportunità di arbitraggio arbitraggio che significa vedete adesso ad esempio biluna costa 0,98 luna quindi cosa vuol dire vuol dire che io cosa posso fare posso andare a svuopare cos'è che posso fare svuopare luna aspettate però perché se svuopo luna per biluna io ci perdo un attimino no perché se biluna vale 0,98 luna biluna vuol dire no vale meno allora no ci sta a tutto senso io ho un luna lo svuopo per biluna così avrò uno virgola qualcosa questi biluna li vado attraverso anchor e non mi tornava ma in realtà è giusto attraverso tac da qua anchor vedete che abbiamo babababa qua bond e noi facciamo burn facciamo burn di biluna in luna e dopo 21 giorni otteniamo li otteniamo a rapporto 1 1 quindi se noi ripeto andiamo a scambiare 100 luna per biluna in questo caso ne otterremo no ve lo dico subito così facciamo qualche numero concreto qua sono luna a gratis come si suol dire luna ok c'è già per bluna 100 luna noi otteniamo 101,66 biluna è un 1,6 per cento ok che lo ottengo dopo 21 giorni quindi se lo annualizzo adesso fate voi il calcolo però non è neanche malaccio e considerate che spesso questo diverge ancora di più cioè adesso è a 0,98 ma vedete che delle volte è arrivato a 0,95 0,93 lì caspita ci sono dell'ottima opportunità di è un arbitraggio alla fine no una forma di arbitraggio c'è il delay no di 21 giorni perché quando si va a fare il burn c'è da aspettare un po ma è un'opportunità per avere qualche luna in più e altri modi per avere qualche luna in più c'è Cugira che in questo periodo se ci sono dei flash crash dei dump e cose del genere non sono affatto male ne abbiamo parlato l'ultima volta sostanzialmente c'è la possibilità di andare a fare da liquidatori vedete noi scegliamo il nostro premium e guardate quante quante botte sono già state date a questi a questi livelli di premium tra l'altro cioè se io biddo al 5 per cento io è come comprare l'una il 5 per cento di sconto non è male per chi vuole accumulare dei luna sono tutti modi per avere qualche luna in più per chi ha visione di lungo termine chiaramente non è roba super speculativa poi 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 eccolo il nostro mark che ha introdotto col suo progetto pilota novi che è il wallet non c'entra col cioccolato è il wallet di quella che si chiamava libra che adesso si chiama diem e insomma la cripto di facebook in qualche modo ci ha introdotto usdp in realtà quella che vedete qua che è paxos dollar sapete paxos no è la insomma un'azienda regolamentata che serve anche paypal e ha creato la sua stable coin che è paxos dollar che prima si chiamava paxos proprio mi pare paxos standard non ricordo e sono quelli di pax gold se ve lo state chiedendo l'hanno integrato in un progetto pilota solo negli stati uniti per adesso in sostanza si potrà come vedete inviare denaro esattamente come fino adesso si faceva con paypal non so se avete mai fatto l'invio di denaro a un amico non so organizzi la grigliata ti mando i soldi con paypal una roba del genere e qua lo fai con whatsapp e lo fai utilizzando la stable coin usdp la puoi comprare anche con carta puoi riscattarla sul conto bancario quindi ti bonificano in rapporto 1 1 però è una cosa centralizzata cioè non c'è block chain non c'è niente dietro e usdp però è tutto tramite l'infrastruttura di whatsapp quindi non c'è minimamente decentralizzazione poi 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 cos'altro abbiamo perché ho aperto astroport non lo sono per per motivi miei in realtà di novità particolari non ce ne sono questo l'abbiamo già detto l'ultima cosa ecco visto che parliamo di defy cefai eccetera in caso di re per chi cerca la rendita semplice sulle stable coin c'è sempre il buon vecchio block fai che secondo me per come compromesso tra sicurezza e rendimento è forse il migliore in assoluto visto il dialogo con i regolatori visti i prodotti che fa adesso ha lanciato la sua carta di credito purtroppo non ancora disponibili in europa ma solo negli stati uniti fa pubblicità ovunque vuol lanciare il suo etf su bitcoin insomma sono tra i player che mi piacciono di più ma al di là del prodotto di rendita sulle stable quindi lato fiducia proprio la fiducia va data a chi si conosce e a chi si vede che lavora bene quindi non alla cefai che magari ti dà anziché questo blog fai ti dà il 9 magari c'è quella che ti dà il 15 il 16 però vai a vedere non sai dove alla sede poi guardi cipro offshore di qua di là ecco lì ti fidi un attimino meno mentre una cosa così è un istituzione praticamente la possiamo definire un istituzione e inoltre c'è un bonus per i nuovi utenti anche in questo caso fino a 250 dollari in bitcoin per il primo deposito con questo questa scala quindi se si deposita tra i 100 i 1500 si ha 15 dollari e poi a salire fino a 250 per chi deposita almeno 100k e lo lascia per un mese viene pagato in bitcoin assieme alla sua prima ricompensa poi può decidere se tenere tutto lì e ottenere ricompensa sempre più alta col compounding oppure prelevare il bonus e tutto e ciao ciao è una scelta che ognuno può fare comunque ripeto 9 per cento di rendita senza particolari sbattimenti perché deposite dimentica rendita pagata nella stessa coin che si deposita ottima per le stable coin un po meno per bitcoin a dire il vero c'è di meglio ma per le stable coin è validissimo perché c'è il 9 per cento su usdt senza fi particolari c'è anche il prelievo gratuito al mese eccetera 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 quindi io mi trovo molto bene ed è una di quelle che mi piacciono di più in assoluto cosa significa compounding intanto vi vi condivido il link per ottenere la promo compounding come abbiamo visto anche nel video di ieri del corso di defy nuovo la seconda puntata è la come si chiama l'atto di prendere le ricompense di prendere i guadagni e reinvestirli aumentando quindi il capitale investito e quindi aumentando sempre di più le le ricompense buonasera sembra ieri che eravamo in 400 e adesso 1200 te li meriti tutti e io ti ringrazio faccio sempre del mio meglio per offrire contenuti gratuiti e di massima qualità mi dovete solo perdonare qualche scillatina ogni tanto ma sono sicuro che mi volete bene me la perdonate anche perché non vi scillo mai cacca fidatevi potete assolutamente metter la mano sul fuoco su quello perché io sono quello che ci tiene di più e a proposito tra poco non a proposito di scillate a proposito di contenuti tra poco vi sgancio una bomba di quelle che vi faranno tremare tremare completamente quando c'è il bear market tutti bear market quando c'è un po di ribasso tutti scappano ma noi lavoriamo ancora più duro vedrete vedrete c'è luca hai visto kickstarter su cielo cosa ne pensi e grafico grazie guarda ne penso che figata però cielo non ne ha risentito più di tanto ci avevano guardato l'ultima volta e c'era stato questo pump ino da notizia proprio tac che si è assorbito immediatamente volumi pressoché inesistenti ma anche perché sì bello carino però non è niente di folle cioè non si la usa come infrastruttura consumerà un po di fi quindi userà un po di cielo ma non lo so non sono un super fan di cielo a dire il vero sono stato un fan delle sue rendite sulle stable coin finché sono durate però della chain in sé non lo so forse per la defy c'è di meglio c'è davvero di meglio luca puoi guardare anchor o yes andiamo a vedere anchor cosa succede l'apy sta scendendo sta scendendo sta scendendo di quanto vediamo adesso ha detto sì tutti a farmare su anchor e adesso ci dampa l'apy vediamo 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 e che qua c'è una divergenza sempre maggiore di depo di urna su borro non benissimo è 18 9 vabbè dai sta scendendo comunque comunque al 19 non mi sembra una minima flessione andiamo a vedere il la yield riserva di anchor com'è com'è è ancora in crescita il fatto che sia ancora in crescita vuol dire che nonostante il fatto quanto costa il borro adesso paga il borro ancora hai capito il borro paga 3 32 e nexus quanto da scusate se rifletto a voce alta ma sono curio io ero rimasto al borro un negativo qua veramente ogni giorno ci sarebbe da naggia vai c'è sì che si sta scavando sotto terra volt sempre 8 e 7 strano dovrebbe dare un po di più non aspettavo un po di più 8 e 7 se scusa se io vado a borroare e mi paga il 3 poi io la metà la do in urna dovrebbe essere un po di più dell'8 e 7 mi aspettavo un 10 11 anche 11 qualcosa qual quadra che non cosa in questo nexus cioè devo devo approfondire comunque anche figata a ti rimanda a cugira direttamente da qui geniale no comunque non mi preoccuperei più di tanto sinceramente questa flessione non so come funziona l'algoritmo di calcolo dell'apy giorno dopo giorno sinceramente però il fatto che la yield reserve sia in crescita non lo so non mi porta preoccupazioni e il borro paghi tra l'altro quindi mi aspetto che dovrebbe crescere un po forse qualche liquidazione c'è stata qualcosa del genere e la cosa che mi fa specie che nonostante vedete diverge il cioè i depositi crescono esponenzialmente mentre il borro cresce più piano comunque la yield reserve sale questa è una cosa che mi piace assai torno da voi allora 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 ma i bonifici su ftx si possono fare ora non ancora secondo me però 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 presto si potranno fare perché io avevo parlato l'altro giorno con qualcuno del loro del gruppo insomma della community italiana e mi avevano detto che avevano contattato quelli di ftx e gli avevano dato che era questione di giorni proprio cioè che non c'erano problemi lato regolamentazioni né niente ma era semplicemente una cosa tecnica di cambio di provider per il bonifico sepa vediamo slow sepa eccolo ho fatto giusto secondo me siamo abbastanza sul pezzo sepa instant forse non funziona non ancora ma è poco male c'è il nostro slow sepa ragazzi è tutto tutto regolare tutto sul pezzo se sì 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 direi proprio di sì slow sepa può è una due settimane stavo guardando ma non sembra funzionare con il solito metodo quindi io vi direi di sì adesso magari date un occhio alla community come gli es confermo per i bonifici c'è da dare un occhio per la community magari per la come si chiama della community italiana di ftx per per conferma ma mi sembra proprio di sì è perché stanotte ci sono state delle liquidazioni anomale su ancor guarda su twitter si avevo visto mi ricordavo mi ricordavo probabilmente ha impattato forse sugli ipy ma non capisco perché ripeto sono curioso di conoscere l'algoritmo chi lo calcola per avere quel rendimento annuale bisogna reinvestire ogni giorno i guadagni ma dipende tipo su su blog file te lo fa da solo basta che li lasci depositati anche su ancor ad esempio se invece si fa come si dice il passaggio cioè se si farma su una piattaforma invece c'è da fare il compound in quello che abbiamo visto ieri ci puoi dare qualche anticipazione su mind layer cosa ne pensi in generale a me ispira un sacco vi dico la verità mi ispira come il discorso in generale del costruire layer su bitcoin mi ispira molto e proprio per questa ragione io sono riuscito a catturarli e ve li do in pasto martedì martedì li porto in live e li bombardo di domande io per primo e poi toccherà anche a voi quindi siateci e mi raccomando che è interessante c'è insomma c'è del lavoro dietro ecco lui visto che siamo in tema dei file come messa vbs vediamo come messa vbs parte che se io volessi vedere il grafico non potrei vero no ma già mannaggia allora switchiamo a crono l'andiamo a vedere da qua l'andiamo a vedere da qua analytics analytics vediamo dove sta il prezzo tokens vbs token price secondo me soffrirà un pochino e allora vediamo che qua c'è pochissimo storico pochissimo è un po in sofferenza è però dal 13 si è è poco è poca questa questo storico e poi su dex guru si trova che volevo vedere un grafico un attimino più più lungo squid perché c'è squid come ultimo come ultimo token guarda allora vvs no non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è ancora cronos qui peccato c'è solo la bsc forse e ok niente però no ripeto secondo me è un po' conviene più andare sul farm and dump nelle situazioni a rischio rischio ritracciamento più marcato perché di fatto è il discorso che facevamo prima cioè questi token comunque molto farmabili io credo che nelle nel bear market la gente si sposta di più su asset stabili e su stable coin quindi bitcoin ethereum sugli asset un po più di fondamentali chiamiamoli e sulle stable quindi chi farma io credo che farmerà per dampare e spostare lì io per primo a dire il vero e questo è poi 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 i depositi su block file per ricevere il bonus devono essere dal conto corrente no conto corrente no in realtà è in stable coin usdt ad esempio un bel deposito di usdt allora in permanent loss capito cos'è come si calcola ma in pratica come potrei sapere ancora prima di dare liquidità se l'apy è conveniente rispetto al rischio in permanent loss complimenti per il nuovo corso sulla defy grazie innanzitutto e guarda purtroppo è difficile prevederla perché dipende dall'andamento delle due coin e quindi è come dire in futuro secondo te quanto può variare quella coppia tu hai che ne so supponiamo bnb cake no l'esempio che abbiamo fatto ieri bnb cake puoi dire boh vado a vedere il grafico cake bnb storicamente com'è stato ma insomma adesso adesso un po bruttino ma eh oddio qua si poteva dire che era tendenzialmente stabile adesso in forte downtrend quindi adesso mi aspetto che se continua il downtrend l'impermanent loss e il downtrend perché nota bene l'impermanent loss viene al secondo posto al primo posto c'è l'andamento delle due coin nel pool se io ho un pool cake e bnb io sono al 50% su cake e al 50% su bnb se mi vanno a dampare se mi fanno il meno 20% supponiamo io ho perso il 20% anche se me lo fanno tutte e due se io se mi dampa una delle due del 20% e l'altra no io avrò perso più o meno il 10% in realtà non è esattamente così ma arrotondiamo più l'impermanent loss data da un meno 20% che la posso calcolare ad esempio su coinmarketcap che abbiamo il nostro dov'era adesso non so più dov'è product no bene ora non so più non ho più idea di dove sia prima c'era farm yield bellissimo adesso l'ha messo chissà dove bene bene io vado da ignorantissimo scrivo coinmarketcap impermanent loss calculator da super boomer proprio eccolo vediamo 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 se lo troviamo altrimenti facciamo una eccola qua calcolatore di perdita temporaneo meno 20 e noi avremo 1 0 e 62 quindi non impatta granché ciò che impatta per davvero è il meno 20% complessivo se io faccio un più 20 io godo perché innanzitutto un più 20 per cento sul pool o su una delle due quindi più 10 circa e poi io vado a fare un più 20 e ho uno 0 e 41 di impermanent loss direi che ce ne possiamo sbattere no quindi uno il l'aumento o decremento del pool stesso quindi io per dare liquidità in un pool devo essere long su entrambe devo essere bullish su entrambe altrimenti rischio che la perdita vada a superare l'APY e l'APR e insomma la perdita più l'impermanent loss ma come avete visto l'impermanent loss agisce se la perdita è elevata se la variazione è elevata e poi c'è l'APY chiaro se ho un APY un APR del 7900% sarà quasi più l'APR che l'andamento delle coin e l'impermanent loss perché se mi dà il 4% al giorno io posso anche tranquillamente fregarmene per un po' dell'andamento delle coin quindi dico io ci sto dentro quei 15 20 giorni faccio due conti e o mi dampa del meno 70% che allora vado in perdita o più o meno sono in pari oppure godo e lì è un discorso di rischio rendimento però tendenzialmente sono queste le cose da tenere in considerazione poi 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 ciao Luke ma quindi teneri luna ho perso la domanda teneri luna sui pool normali di Stader non conviene più era una roba del genere io sinceramente li metterei in liquid staking adesso e poi metterei la liquidità luna x luna su Terraswap Cosa ci racconti di Algorand? Breve analisi e pareri attuali? Guarda ho fatto un video dedicato su Algorand un po' di tempo fa se vogliamo andare a vedere adesso il grafico insomma non c'è particolare direzionalità così così e ogni tanto esce ma poi rientra quindi non mi fa impazzire lato speculativo ad essere sincero poi uscirà prossima settimana una nuova versione di MetaMask con cui si potranno collegare gli hardware wallet e iRGAPD che figata basati su scan di QR code io ne ho uno eccolo il mio fantastico COBO il mio walletotto ma l'LP di luna x luna si potrà mettere da qualche parte non va messo in staking tra l'altro l'LP va a quanto ho capito basta tenere l'LP stesso dunque 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 oh mamma mia 56 minuti dobbiamo guardare due graficozzi quello di bitcoin direi che l'abbiamo già analizzato a dovere all'inizio no cosa ne dite perché abbiamo una situazione di sul breve ribasso canale ribassista e sul medio lungo termine invece rialzo perché abbiamo high e low in crescita guardando anche il mensile sono curioso di vedere come chiuderemo il mese di dicembre si nota ancora di più perché se lo chiudiamo supponiamo anche qua non è ma guardate c'è un supporto in più sul mensile guardate chi si vede eccolo 47.200 nuovo supporto da aggiungere all'elenco e se dovessimo chiudere qui presupponiamo che poi andiamo a fare magari un po' di cose così che bullata che sarebbe cioè tac tac una meraviglia il mensile è bullish non ci sono cavoli dai guardate che roba con sto candelotto verde qua questo è il candelozzo verde della mattina di mattina presto quando ti svegli hai il candelozzo verde questa è la situazione e non lo abbiamo ancora perso abbiamo assorbito abbiamo rimbalzato bene qua per il momento quindi alla grande se continuiamo in questa direzione e se al contrario andiamo a chiudere qua sotto non benissimo purtroppo perché ci mangiamo via questa e poi qua avremmo un secondo supporto a 35.000 però preferirei non guardarlo ancora tra i 30 e i 35 c'è il grande supporto qua no vedete tac però non so voi ma io preferirei non pensarci ancora quel supporto lì eh perché lì c'è la zona Michael Saylor e interviene lui dovrebbe intervenire lui e per il momento rimaniamo con gli occhi puntati anche allora sui 47.200 lo aggiungiamo al aspettate che salvo il grafico lo aggiungiamo all'elenco dei sorvegliati speciali questi cosa ci stanno a fare lì? possiamo anche levarceli dai piedi no? e sì 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 insomma resistente a caso comunque questa è la situazione di bitcoin cioè non ci sono tanti punti interrogativi dobbiamo tenere questi supporti e adesso che abbiamo quattro candele rosse a fila io mi aspetto quantomeno un rimbalzino però non credo che questo rimbalzino sarà un bottom quindi da lì poi magari faremo un altro un'altra leg down e poi magari un costrutto di bottom chi lo sa io voglio un costrutto di bottom ho un segno di domanda molto forte tipo un engulfing bullish come si deve anche sul daily mi andrebbe bene quindi esempio se domani babam facciamo una roba del genere e ci andiamo a riprendere questa zona tac questo potrebbe essere un costrutto di bottom da non male se dovessimo andarci a riprendere solo questo questo però non è abbastanza per essere un costrutto di bottom cioè sono cinque candele in croce dopo un doppio papam un dampone così non sarebbe sufficiente per me poi 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 cosa andiamo a vedere di bello ethereum ethereum attenzione perché ha un attimino subito subito questo primo attacco alle resistenze allora queste sono resistenze settimanali attenzione e adesso qua possiamo andare a variare qualcosina perché se ci comportiamo bene qua qua e qua potrebbe esserci una zona di anche da qui così tac potrebbe essere un entry questo per chi ama l'adrenalina potrebbe essere un entry con stop loss qua giù oppure anche qua giù per essere più sicuri sotto ipotesi chiaramente di prosecuzione rialzista non male per il resto la dominance oggi ha avuto un attimino di di colpo di reni però vedete che siamo sempre in questo intervallo laterale adesso c'è da vedere se rimbalzeremo oppure se romperemo addirittura il 40% e lì non lo so non saprei sarebbe troppo strano perché la dominance è ai minimi da da dal 2018 vi rendete conto dal 2018 che era quando c'era quel folle completamente folle bull market era il vecchio top non benissimo come situazione se dovessimo fare una comparison vabbè comunque no scherzi a parte non sono fan di era il vecchio top quindi siamo al top perché comunque è cambiato molto nelle altcoin è cambiato molto e adesso credo che ci sia molto più valore di fatto quindi sono curioso di vedere mi concentro solo sull'ultimo periodo senza far troppa speculazione sono curioso di vedere se faremo un bel rimbalzo qua o se andiamo a perdere il supporto del 40% bene amici miei io io spero solo in un dump per accumulare BTC esatto ciao Luca hai mai sentito parlare di high dollar ragazzi sta cosa mi sta iniziando a dare sui nervi è uno scam lontani da questo scam cioè basta ste cose basta basta ma è possibile che adesso tutti costo ai dollar basta basta per l'amor di dio e troppe nuove possibilità con le alte è vero è vero assolutamente perché scam ma perché ha tutti tutti fai una checklist del po anzi fino a se stesso e lui ce le ha tutte più o meno tutte tutte come ok l'una andiamo a vedere l'una e poi ci salutiamo che dire che dire che dire cosa vorrà mai combinarci l'una non lo so è esteso è intoccabile purtroppo adesso sinceramente non fa parte degli intoccabili fa parte degli intoccabili e se ci fosse un bel bear market qualche luna no per accumularli scherzi a parte vi ho mostrato alcuni modi adesso il discorso luna biluna col burn con quell'arbitragino lì kujira lo staking liquido con un buon ipy insomma piuttosto che comprarlo adesso non mi sembra personalmente il momento di comprarlo io la vedo così amici di nuovo cosa ne pensi di cro? l'ultima dai andiamo a vedere cro 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 che la stiamo seguendo ma è un'altra un'altra delle intoccabili che adesso sta un po' soffrendo e vediamo adesso cosa combina quando arriva la prima zona di supporto però l'estensione si paga cara anche cro sarebbe una che se ci fosse un bel bear market qualche cro da includere in portafoglio potrebbe essere l'occasione potrebbe essere il momento amici basta ora la smetto io vi faccio un carissimo saluto io vi auguro un buon weekend noi ci rivediamo lunedì con la nostra solita live alle 18 e 30 sempre sul pezzo e vediamo un po' come chiudiamo sta candela settimanale se facciamo la quarta rossa oppure no io di nuovo vi faccio un caro saluto alla prossima e buon weekend